eccoci qua cari amici scusate oggi c'è qualche problemino credo di aver capito che cosa che cosa è successo non mi era mai successo di attivare il backup del computer durante una diretta evidentemente questa cosa crea qualche problemino di sovraccarico ecco al processore e quindi questa cosa insomma non la devo più fare quella di fare il backup durante una diretta vi chiedo scusa per questo paio di blocchi temporanei ecco del programma vi chiedo veramente scusa allora cari amici quindi vi vorrei solo dare qualche breve aggiornamento su quello che sta succedendo in merito in merito alla nostra e alla nostra moneta quindi vado subito vado subito a controllare quanti nuovi iscritti quanti nuovi iscritti ci sono sperando che ce ne siano andiamo un attimo a vedere com'è come la situazione allora bene sì sì ci sono due nuovi iscritti non ancora non ancora approvati che sono walter e maurizio che si sono registrati rispettivamente il 25 e il 26 mentre ci sono ancora tre di coloro che erano in attesa di approvazione che sono ancora in attesa di approvazione adesso invece andiamo a vedere tutti gli iscritti tutti coloro ecco sono 67 quindi c'è qualcuno nuovo sicuramente andiamo a mettere un filtro con la data mettiamo 25 novembre 2015 in modo da vedere solamente quelli nuovi ecco qua e sono dieci considerando che ci sono un paio di iscrizioni in fase di redazione quindi queste non le contiamo bene ci sono un bel po' nuovi insomma allora 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 che bellezza cominciamo si è iscritta benvenuta cinzia dalla provincia di brescia benvenuta cinzia anzi diciamo anche i cognomi ecco cinzia viola dalla provincia di brescia grazie cinzia benvenuta sulla nostra piattaforma la piattaforma della comunità di salvo 5.0 poi si è iscritto anche simone landi dalla provincia di livorno benvenuto anche a simone e grazie poi si è iscritto anche walter giannini dalla provincia di bari benvenuto walter anche se però l'iscrizione di walter non è ancora completa e in attesa di completamento poi roberto ferrai dalla provincia di trento benvenuto e grazie a roberto ferrai poi vincenzo emmanuello dalla provincia di caltanissetta benvenuto vincenzo e grazie poi liuba kuzmin dalla provincia di lecco benvenuto o benvenuta a liuba non so se il nome liuba probabilmente una donna ti chiedo scusa comunque benvenuto o benvenuta poi maurizio coffinardi da brescia benvenuto a maurizio coffinardi la brescia e infine giuseppe caligiuri da treviso benvenuto anche a giuseppe caligiuri da treviso molto bene sono molto molto contento di vedere che ci sono diverse nuove iscrizioni a questo punto andiamo a vedere anche se ci sono se ci sono dei nuovi dei nuovi annunci ecco vediamo un po è vediamo un po ricerca annunci ecco chissà se anche sugli annunci si può mettere si può mettere una una data no va bene allora li guardiamo tutti velocemente vediamo spero a memoria di riuscire di riuscire a capire quali sono nuovi no però magari vedendo l'annuncio si può vedere chissà quando è stato inserito no va bene allora vediamo 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 o per esempio questo mi sembra un annuncio nuovo allora vendo pic e berry kit completo per monitoraggio fotovoltaico o consumo elettrico nuovo semplice installazione open source presso 125 125 euro più 32 buoni circolari molto bene questo annuncio arriva da arriva da chi arriva da dalla serial srl dalla serial srl benissimo poi miniature questa da che arriva da armando benfenati miniature città del warmer e che è sta roba città del warmer dread fleet nuovo sigillato 40 euro più 40 buoni bene poi vediamo un po che cos'altro quadro in legno poi microonde microonde in perfetto stato bene 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 quindi c'è anche un fondo a microonde in vendita da parte di angela cercaz grazie angela spero che ci sia qualcuno interessato ad acquistare il tuo microonde poi vediamo fata guardiana fata si vendono pure le fate fata guardiana articolo 042 112 originale ls alp nuova in confezione originale prezzo 8 euro più 8 buoni poi c'è una poltrona da parte di giovanni ah ecco giovanni ha caricato la fotografia che l'altra volta non l'aveva messa perché il file era troppo grande eccola qui la fotografia mi sembra in buone condizioni la poltrona che giovanni sta cercando di vendere bene poi dario morandi dario morandi professionista accreditato impartisco lezioni private di batteria 20 euro quindi credo che sia non si capisce bene qui la percentuale 10 più 10 sì quindi credo che sia 10 euro e 10 buoni circolari molto bene grazie a dario per aver messo questo quest'ordine poi 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 davide angelini davide angelini consulenza online 60 minuti per realizzare intonici o termo intonaci in terra a bassissimo costo 20 20 io cavolo non capisco qua questi questi simboli per cento u 20 ac credo che sia 20 euro e 20 crediti comunque contattando ovviamente potete sapere potete sapere bene i dettagli poi c'è un quadro di produzione da parte di stefano barbaresco ma questo forse l'abbiamo visto l'altro giorno poi c'è il gioiello in argento di paolo tintori anche questo l'abbiamo visto o nicola michele donvito benvenuto vediamo un po l'annuncio faccio traduzioni dall'inglese all'italiano e viceversa per piccoli testi o frasi il prezzo in buoni varia in base alla lunghezza del testo da tradurre partendo di un minimo di 5 ad un massimo di 10 per il momento se interessati contrattando in privato e se la prestazione viene concordata inviare email l'allegata gli allegati contenenti il materiale da tradurre quindi mi sembra di capire che qua nicola accetti 100 per cento di buoni perché lui parla di buoni solamente non parla di euro molto bene molto bene grazie per aver inserito l'annuncio poi c'è l'estrattore l'estrattore da parte di di sergio lapi probabilmente probabilmente questo aspetta però lui mi sa che lo cerca questo qui si questo lo cerca infatti l'avevo anche visto quest'annuncio ah però a proposito di sergio lapi vi dico una cosa una notizia che sergio sta concludendo un acquisto di un servizio dal mio amico gianfranco cipriano vi ricordate la prima transazione che ho pubblicizzato qui sul tg la nostra moneta quella in cui io ho fatto un tagliando a un'officina meccanica si chiama appunto cipriano car service che si trova in provincia di varese vicino luino bene dopo questa notizia sergio ha contattato gianfranco e si sono messi d'accordo per fare un lavoro sulla macchina di sergio pagamento in euro e buoni circolari non so ancora bene i dettagli di quanto debba pagare in euro quanto in buoni circolari quindi vi daremo i maggiori dettagli non appena la transazione sarà conclusa però già hanno preso l'appuntamento quindi insomma si concluderà sicuramente nei prossimi giorni bene 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 poi poi vediamo un po vediamo un po qui ci sono varie altre inserzioni che credo di aver già letto quindi andiamo avanti comunque bene vedo che le inserzioni aumentano gli iscritti aumentano siamo sulla buona strada per amici siamo sulla buona strada ovviamente dobbiamo solo cercare di aumentare di numero perché è chiaro che per avere successo dobbiamo essere veramente in tanti cioè dobbiamo raggiungere almeno una massa critica in modo tale che ci siano un numero di beni e servizi offerti tale da rendere appetibile da parte di ciascuno di noi di mettere qualcosa a disposizione degli altri e poi capite è un loop è un circolo virtuoso perché è chiaro che più trovo cose dove spendere i buoni e più mi sento incentivato a mettere a disposizione quello che posso contro buoni e a favore della comunità quindi è proprio così più aumenta il numero più aumenti il numero delle offerte delle possibilità e più diventa interessante ecco quindi mi raccomando spargiamo la voce anche perché secondo me cari amici ora mettendo da parte coloro che magari hanno intenzione un po violente no che vogliono fare la rivoluzione qualcuno che parla di rivoluzioni armate eccetera eccetera invece secondo me ci sono solo due armi assolutamente non violente per battere il sistema uno non pagare le tasse oggi ho fatto un piccolo comizio cari amici ero alla stazione centrale di milano in arrivo da bolzano era l'ora di pranzo sono andato a prendermi un'insalata in un bar che c'è lì alla stazione e allora siccome mi sono seduto al tavolo dovevo pagare un euro in più di servizio e ho detto al cameriere per favore non mi porti lo scontrino e guardi mi dispiace l'ho già fatto e poi noi siamo costretti devo farlo per forza detto scusi ma perché lei si sente costretto di fare un crimine lei lo sa che con questo scontrino sta facendo un crimine perché sta cooperando con uno stato criminale con uno stato assolutamente mafioso criminale ha servito a un'associazione per delinquere di stampo mafio bancario quindi lei non dovrebbe farlo questo scontrino lui mi guardava con occhi spalancati così c'era una coppia di signore un signore una signora al tavolo a fianco che me l'ho detto ah certo comodo così allora che fai vediamo tutti le tasse ho detto no signora non è che stiamo parlando qui di evadere le tasse stiamo parlando di togliere linfa vitale uno stato criminale l'unico modo di far crollare il sistema è questo e ma io sono dipendente come faccio come faccio a evadere le tasse visto che a me me lo tolgono alla fonte detto va bene signora fin quando lei rimarrà dipendente ovviamente quelle lì purtroppo gliele tolgono alla fonte ma lei paga il canone rai si lo pago bene e allora smetta di pagarlo lei paga il bollo auto si lo pago bene smetta di pagare anche quello eccetera 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 quindi c'è il modo ovviamente di fare protesta fiscale se diventiamo milioni a fare protesta fiscale voi capite che anziché andare nelle grane chi lo fa come il sottoscritto io non pago il bollo auto non pago il canone rai poi non pago irpef perché non ho nessun reddito ma se avesse un reddito non pagherei comunque l'irpef se avesse un reddito diciamo da 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 denunciare insomma se fossi un imprenditore un libro professionista non lo sono per il momento non ho nessun reddito e quindi le uniche tasse che riesca a non pagare sono il cosiddetto canone rai e il bollo auto quindi un'arma è quella le tasse altra arma diventare invisibili piano 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 spendere sempre meno euro e sempre più moneta complementare sempre meno euro e sempre più moneta complementare fino a quando si arriva al punto in cui praticamente cari amici la gente getta la maschera e qui c'è non la gente getta la maschera scusate stavo leggendo il titolo del mi scappa la diretta confusione lo stato vede che siamo spariti non si rende neanche conto che 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 non ci siamo più quindi ci liberiamo dalla schiavitù va bene carissime amici allora io a questo punto direi che ci possiamo salutare qui quindi mi raccomando restate ancora qui sul salvo 5.0 perché fra 11 minuti comincia la puntata di questa settimana del valore della moneta con l'avvocato davide storelli mi raccomando rimanete qui anzi spargete il link spargete la voce grazie a tutti voi un abbraccio e ci vediamo per quanto mi riguarda lunedì anzi no ma che dico ci vediamo domenica sera domenica pomeriggio alle 17 con un'intervista a un mio carissimo amico nonché cittadino italiano e americano e poi probabilmente domani faremo anche la seconda puntata della rubrica ciò ciò che esiste non è tutto con con diego fusaro ecco dobbiamo ancora concordare l'ora però probabilmente domani ci sarà appunto la rubrica con e di diego fusaro allora per me adesso è veramente tutto mi raccomando restate qui e ci vediamo ci vediamo appunto quindi domani probabilmente insieme a diego fusaro domenica per l'intervista con il mio amico francesco gambino e poi lunedì ricomincia la programmazione standard grazie a tutti quanti buona serata e per quanto mi riguarda domani ma restate qui per godervi la puntata di oggi che secondo me è molto molto interessante del valore della moneta con davide storelli ciao a tutti e grazie grazie a tutti